Amore, per stasera qualcosa di leggero perché sto a dieta. Ah, ma io non ce l'ho il fidanzato. Vabbè, mi ordini una bella pizza. Non riesco a capire perché cazzo mi apri ogni cinque minuti. Voi можете объясniere, за che вас задержali? A io знаю, perché. Io d'ora prima che c'è, e qui c'è un mouche, come un'altra madre, gale, e si è morto dal coronavirus. Prooste, probabilmente. E così non so, perché. Amore, niente, posso stare un po' per cazzi miei. Uno si sveglia la mattina e vuole stare per cazzi suoi. Certo, amore. C'ho visto tirare delle... Eh, che cazzo. Non è che uno tutte le mattine deve parlare con tutti, no? Eh, uno sta per cazzi suoi e sta per cazzi suoi. Avevo 14 anni quando Conte annunciò la quarantena in Italia. Dovevamo stare a casa fino al 3 aprile. Ieri ho compiuto 90 anni. Mi hanno detto che fra qualche giorno usciremo. C'è un'altra... C'è un'altra... C'è un'altra... C'è un'altra... C'è un'altra... C'è un'altra... C'è un'altra...